Entriamo col video mentre manca un minuto, un minuto al termine di questa partita di San Siro con la Juventus che in attacco seguiamo queste ultime fasi dell'incontro, una partita che si è fino a questo momento risolta nel primo tempo ottimo via della Juve, 8 minuti di possesso palla dopodiché sulla prima occasione dell'Inter l'Inter ha segnato la differenza che c'è praticamente tra il possesso palla e il tirare in porta lì si era vista chiaramente con la complicità peraltro di Buffon l'autore è stato molto bravo ad anticipare De Ligt e non è facile anticipare un giocatore come De Ligt però Buffon ci ha messo del suo perché il tiro era centrale, insomma l'ha toccata ma gli è passata sotto al corpo potrebbe esserci l'ultimo tentativo per l'Inter, no la partita viene bloccata adesso per un fallo accordato a favore della Juventus poi c'è stato il discorso del rigore che mi è sembrato assolutamente netto, sacrosanto ci è voluto il VAR per vederlo perché evidentemente l'arbitro era un po' coperto nella visuale del resto si vuole, si è voluto il VAR e solo il VAR può individuare queste trattenute che sono poi determinanti per l'assinazione di un calcio di rigore finisce in questo momento la partita, la Juventus porta a casa questo primo round della semifinale contro l'Inter riscattando quindi anche la sconfitta in campionato di 16 giorni fa dicevamo di questo calcio di rigore che mi è sembrato assolutamente regolare, netto anche grazie appunto al VAR che ha mostrato benissimo la trattenuta nei confronti di Quadrado e poi nel giro di 5 minuti è cambiato tutto perché c'era stato l'errore di Buffon in occasione del gol dell'Inter c'è stato l'errore di bastoni che non si è capito con Andanovic e lì Ronaldo ha segnato veramente un gol di grande fattura di difficoltà tra l'altro perché non era facile da quella posizione centrare la porta ha usato il sinistro che poi non è il suo piede fortissimo diciamo così palo interno gol e quindi in 5 minuti la Juventus ha ribaltato il tutto direi che nel primo tempo la Juve secondo me ha controllato anche abbastanza bene nel secondo tempo ha concesso troppo, troppi palloni persi in uscita le ripartenze basse con possesso palla hanno dato adito almeno tre volte all'occasione dell'Inter in un caso Bentancur, in un paio di casi mi sembra di ricordare Bentancur poi Buffon si è riscattato alla grande su Darmian c'è stata una grande occasione sventata da De Miral sull'Ener di Porta diciamo che a conti fatti l'Inter avrebbe anche meritato di pareggiare nel secondo tempo perché ha esercitato una maggiore pressione come era normale che fosse perché stava perdendo e quindi giustamente si era proiettata in avanti la Juve ha ritrovato un po' di quella leggerezza che può essere molto molto rischiosa e può portare a buttar via una partita che stavi sostanzialmente controllando dopo che è ripassato il vantaggio quindi troppe leggerezze difensive non ne ha approfittato l'Inter direi che comunque alla fine il risultato ci sta ci sta assolutamente è un primo round non cambia molto certo due gol in trasferta o addirittura vincere in trasferta ti offre delle ottime premesse per affrontare la gara di ritorno non ti offre nessuna certezza anche perché l'Inter avrà a disposizione Lukaku e Hakimi non avrà Vidal che è stato ammonito ma comunque sarà un'altra partita il fattore campo non c'è più specialmente poi in questo periodo tra Inter e Juve non ci sarebbe stato ugualmente il fattore campo quindi è ancora tutto abbastanza aperto anche se è in dubbio che una vittoria in trasferta ti pone una sensazione di vantaggio non solo numerico ma anche psicologico purché non ci sia il rovescio o l'estremizzazione di questo vantaggio psicologico ossia l'eccesso di rilassamento della gara di ritorno non credo che questa Juve incappi ancora in questo tipo di errori che si vedevano sostanzialmente fino ad un mese fa o quantomeno fino a due settimane fa fino alla sconfitta contro l'Inter che è stata proprio il punto secondo me di svolta per rivedere antiche situazioni anche abbastanza recenti per la verità che avevano sempre caratterizzato la storia della Juventus quindi la Juve passa con una buona prestazione di Cristiano Ronaldo che torna al gol dopo che non toccava con mano o con piede questa soddisfazione dal 10 di gennaio contro Sassuolo farà forse più notizia il fatto che lui non abbia accettato questa sostituzione che ci sta perché ci sta perché sabato c'è Juventus Roma e giustamente Pirlo ha cercato di preservare anche Cristiano Ronaldo è che sappiamo che lui vuole sempre giocare aveva fatto due gol da fare anche il terzo ma deve capire anche lui che in certi momenti soprattutto dopo che sei stato determinante in una partita ci sta che tu venga sostituito per essere preservato per la sfida successiva però farà sicuramente più scalpore probabilmente questo suo scuotimento di capoccia piuttosto che la doppietta realizzata a San Siro tra l'altro è il terzo gol che fa contro l'Inter a San Siro Ronaldo mi è piaciuto molto Arthur da quando è entrato devo dire che questo giocatore è in continua crescita in continua crescita mi è piaciuto Quadrado se devo parlare di note dolenti voi vi aspettate che io citi Bernardeschi non vi cito Bernardeschi aveva sbagliato il cross in occasione del rigore su Quadrado ma sostanzialmente è stato l'unico vero errore che ha fatto in questa partita mi dispiace dirlo, mi dispiace ripetermi ma Alessandro non è più il giocatore che si era visto forse solo il primo anno di Juventus le chance le ha ma evidentemente non riesce a sfruttarle quindi note positive da un lato una nota negativa su tutte la prestazione di Alessandro che continua a non essere convincente ma è il mio parere quindi si può essere d'accordo o non d'accordo è tutto iscrivetevi al canale mi raccomando e poi ci vedremo domani per l'approfondimento ricordiamo il risultato Inter di Juventus 1 a 2 primo round in favore dei bianconeri ma c'è una sfida da giocare tra 7 giorni ciao alla prossima ciao